Riprende a pieno regime la vaccinazione per gli over 80. In provincia di Teramo sono 5 i comuni su cui gli operatori dell'Ase sono entrati oggi in azione per la campagna anti-Covid. I territori interessati sono Tortoreto, Albadriatica, Crognaleido, Fanadriano, Pietracamela e Torricella Sicura. Nel comune costiero di Tortoreto sono circa 300 i residenti che si sono iscritti sulla piattaforma dedicata. Un giorno importantissimo. Riscondriamo un buon successo di adesione a questa vaccinazione, anche se all'inizio sembravano tutti quanti no alla paura, però poi col passaparole, con i medici di base, noi come amministrazione che abbiamo fatto una campagna di sensibilizzazione, abbiamo, come potete vedere, un buon risconto di partecipazione. Scelto come luogo per l'esomministrazione la sede della protezione civile, imponente il lavoro di organizzazione messi in campo per pianificare i vari aspetti di natura logistica e organizzativa. Abbiamo avuto un po' di difficoltà perché è successo tutto con il fine settimana, con il sabato, la domenica, ci siamo attivati insieme all'ufficio manutentivo, con i nostri assessori, con la del Sordi, con Ripani, abbiamo fatto le telefonate personalmente per avvisare i nostri concittadini a venire qui per questa vaccinazione. Quante sono le persone che verranno vaccinate nella giornata di oggi? Nella giornata di oggi sono 80, poi 120 domani e 120 mercoledì. Poi a fine mese ci saranno quelli che adesso stanno facendo l'adesione, perché questi sono tutti quelli che hanno fatto l'adesione fino al 10 di febbraio. Poi tra 21 giorni ci sarà il richiamo? Sì, poi la ASA ci comunicherà, rifaremo lo stesso passaggio adesso, avviseremo per la seconda vaccinazione, per il richiamo.